Finalmente rega, qualche novità veramente importante da arrivo su Fortnite, non vedevo l'ora Qualche novità veramente, dico veramente importante, perché infatti rega Esattamente domani, quindi sabato 14 dicembre, ci sarà uno dei eventi più importanti di Fortnite in assoluto L'evento crossover Fortnite per Star Wars, che si terrà ovviamente la sera rega al solito orario Quindi alle 19.30 chiuderanno tutte le altre modalità e apriranno la modalità dell'evento ufficiale E all'evento rega inizierà il tutto, quindi mi raccomando, tenetemi pronti Io vi consiglio di prepararvi un quarto d'ora prima, una decina di minuti prima appunto, per assistere all'evento Io purtroppo rega non potrò farlo, perché sarò a Milano da Zerbia Sì raga, vado a Milano per non perdere veramente niente, mi raccomando, seguitemi su Instagram E chiamo CaptainBlazerOfficial Oggi comunque rega direi che è il momento di tornare con un nuovo Fortnite News sul canale Finalmente era tipo da un mese che non ne portavo uno, quindi quale occasione migliore insomma Sono arrivati un sacco di novità su Fortnite appunto con la nuova patch 11.30 Molte novità in arrivo e soprattutto rega, l'evento Star Wars Abbiamo veramente un sacco di dettagli, dico veramente tanti Non saltate nemmeno un minuto del video rega, perché oggi ho la dirvi delle news veramente succulenti Mi ricordo rega che ogni giorno giungo una persona alla mia lista amici di Fortnite Come per esempio fatto con G1 Aleboomba06 Per diventare mie amici rega è molto molto semplice Basta andare nel negozio oggetti su support aggretore in basso a destra Ovviamente rega inserire il codice K appunto su support aggretore E una volta fatto questo taggatemi su Instagram, mi chiamo CaptainBlazerOfficial Una storia come questa per esempio è perfetta Magari il mio prossimo amico potresti essere proprio tu, buona fortuna E ovviamente rega vi ricordo di lasciare un bel like al video Non dimenticate di distruggere il tasto nostro iscriviti C'è questo qui rega, fate finta che sia il vostro telefono Questo qui è il vostro dito Prima di farlo mettetevi una protezione adeguata Perché altrimenti rega vi distruggete il dito Poi dopo fate buf Ultima cosa Instagram, detto questo let's go Dobbiamo parlare veramente di un sacco di news rega Ma prima cosa appunto evento 14 dicembre alle 20 Questo qui è il poster ufficiale appunto il trailer diciamo dell'evento Insomma chiamatelo come volete Questo trailer è stato messo in onda rega a rapide rischiose Rapide rischiose, città che non è segnata sulla mappa Ma in realtà è presente per chi non lo sapesse Dopo tipo due mesi dal capitolo 2 E lì appunto che è stato annunciato un nuovo evento di Star Wars Ed è lì che si terrà appunto ufficialmente O almeno lì che dovrebbe iniziare il nuovo evento appunto di Star Wars Pochi dettagli appunto sull'evento Tra pochissimo ma prima rega dire di parlare assolutamente delle patch notes Appunto dell'ultima patch 11.30 Che hanno introdotto un sacco di novità Che nemmeno molti di voi si immaginavano Come prima cosa ragazzi Tengo tantissimo a ringraziare Alf del canale Fortnite Italy di Vulti Telegram Che ogni volta che gli chiedo qualcosa è sempre super disponibile Mi ha fatto un riassunto completo di tutta la patch 11.30 E iniziamo dagli oggetti e dalle armi che sono tornate in game Infatti rega se andiamo sul canale Fortnite Italy TV Possiamo vedere che nel gioco sono ritornate le seguenti armi Rega sono felicissimo per la prima fucile da caccia Oh mio dio Non so in quanti di voi non lo sapevo rega Ma finalmente è tornato il fucile da caccia Finalmente cavolo Assalto tattico rega quello che abbiamo provato in un video di tipo una settimana fa E so me l'avevamo già provato in anteprima Un'arma per me è veramente molto forte devo dirlo sinceramente È un assalto che secondo me è molto divertente da utilizzare Soprattutto è molto molto preciso Scar silenziato niente male Anche se rega sinceramente preferisco lo scar normale Però silenziato se non sbaglio è leggermente più preciso Quindi non è veramente male il silenziato Oh pazzi le neve rega come quarto oggetto Niente male direi funzionano un po' diversamente appunto dallo scorso Natale Però sono sempre molto molto carini Sono tornati anche i regali rega Quinto oggetto appunto ritornato dal gioco Quelli che insomma noi lanciamo diventano giga enormici E praticamente all'interno troviamo delle sorprese Poi sono state aggiunte le palli di neve Cosa che sinceramente non ci sono mai state in nessun Natale E il carbone rega che non esiste in creativa Non so assolutamente dove trovare Non so assolutamente come provarlo E non ne ho idea di che cavolo combine rega Se qualcuno lo sappia me lo scriva qua sotto nei commenti Perché vi giuro non ne ho più pali d'idea Queste invece rega sono tutte le skin trovate All'interno dei file di gioco appunto nell'ultimo aggiornamento Ne abbiamo alcune veramente veramente carine Che bisogna mettere come per esempio Non chiedetevi che problemi hanno quelli dell'Epic Games Ma questa qui rega è bellissima Poi anche questa qui non è male Questa qua su in alto rega non la capisco What? Ma che cavolo è? C'è questa qui anche che è molto carina Questa che non è male Rega dai in generale per me sono skin abbastanza carine Fatemi sapermi raccomando qua sotto nei commenti Che cosa ne pensate? Per quanto invece riguarda il backpack Questa volta l'Epic si è data veramente da fare E io voglio assolutamente il backpack banana E anche questo rega ma quanto è bello Sono tutti bellissimi è vero sono tutti fantastici questi backpack Però rega questi due sono bellissimi Poi qua non lo vedete ma c'è tipo un idrante verde Queste invece sono alcune varianti di skin Niente male rega La variante Crackshot d'oro Questa qui in alto è veramente molto carina secondo me Quelli sotto invece sono nuovi picconi E rega quegli Ah aspetta un attimo No ok non so assolutamente che cavolo siano questi skateboard qua sotto Questi kick flip li chiama What? E questa skin rega è il mira Con questo variante qua non è per niente male Ma direi rega che è il momento di ritornare in gioco Andare un attimino a guardare la nuova mappa E soprattutto andare nella zona diciamo centrale della mappa Quindi fattoria frenetica Intanto questa qui per chi ancora non l'avesse vista È la nuova mappa al momento rega Al momento Finatevi dopo vi farò vedere come appunto diventerà Più avanti la mappa Andiamo verso la zona Eccola qua Eccola qua in vista rega Giusto qua sotto Oh mio dio Questo rega è come si pronuncia l'ultima fase Quindi la fase finale Di rapide rischiose Guardate un po' live tra E qui apparirà il countdown Mamma mia rega che figata che stanno facendo in questo evento Insomma rega stanno creando una specie di palcoscenico gigantesco Guardate che roba Tipo quelli che usavano dei vari vecchi eventi Insomma i vari palcoscenichi Tanto notarico detto palcoscenichi E rega all'interno della mappa Potrebbe esserci un nuovo PD Quindi un nuovo punto di interesse Cioè parole povere Insomma una nuova città Che si troverebbe qui Nella parte appunto dove c'è la neve Ora io non è che non mi fidi delle news Anzi assolutamente Solo che vorrei andare a vedere appunto con i miei occhi Questa nuova città Potrebbe essere questa rega Ok si potrebbe essere benissimo in questa zona qui No ok direi che non è assolutamente questo nuovo punto di interesse Allora rega Oh 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 attenzione dopo ore di ricerca rega L'ho finalmente trovato Oh eccolo qua New landmark Oddio rega che figo Che figata tutto tema innevato Oddio rega che figata Questo qui è sicuramente un posto segreto Che in pochissimi di voi avranno visto Mi raccomando rega Condividete il video con tutti i vostri amici appunto Per farglielo vedere Che figata Che cosa c'è qua dentro Oddio Che bello è rega Ma è fantastica sta roba Vabbè le casse sono ovviamente normalissime Tutto normale rega È tipo il vecchio castello di ghiaccio Vi ricordate? Noi siamo al castello di ghiaccio enorme Dove c'erano all'interno le uova di drago Che figata Che sta combinando la epic Per questo Natale rega Secondo me si sta veramente dando da fare questa volta Questo aggiornamento qui Non mi ha per niente dispiace Anzi hanno aggiunto armi decenti E soprattutto Anche questo nuovo punto di interesse Quello che sta facendo insomma rega L'evento con Star Wars Spero che facciano un bel evento Dai ecco Purtroppo ve lo perderò ma sicuramente lo vedrò in live GG Epic Games Ottimo lavoro Continuate così Questo rega è quello che vi stavo dicendo prima Quindi praticamente nei felli gioco È emerso Che in teoria la fase finale della mappa Dovrebbe essere una cosa del genere Quindi tutta la mappa completamente rivestita di neve Il che non penso sia proprio Una delle cose migliori che l'epic possa fare Speriamo rega che questo Natale non lo faccia Però mi sa che questo rega sarà l'idevita benedestino Eh sì purtroppo sì Ma iniziamo a parlare un pochettino più in dettaglio appunto Del nuovo evento Star Wars rega Abbiamo già qua in anteprima Il nuovo zaino che farà parte del set Star Wars Come vedete qua c'è già lo Stormtrooper Che sicuramente tornerà Però era già arrivato se non sbaglio Nello shop del 15 novembre Oddio non vorrei ricordarmi male Non mi ricordo lo shop a memoria però Avevo visto che era intorno al 15 novembre Questo qua dietro Cosa praticamente invisibile rossa Dovrebbe essere il nuovo zainetto Che bocca è strano Io rega non seguo la saga di Star Wars Quindi se sto dicendo cose brutte Perdonatemi Nuova emote criptata di Star Wars Guardiamolo un attimo Eeeh figata Ma che figata è rega ste emote Questo appunto è tutto quello che stia avvenendo in anteprima E che in genere dovrebbe arrivare dopo l'evento E rega vi sto veramente per svelare una cosa molto molto importante Relativa all'evento Una cosa veramente molto segreta In anteprima appunto Relativa al nuovo evento di Fortnite per Star Wars Siete pronti? 3, 2, 1 Let's go Navicella di Star Wars Trovata nei file di gioco rega Si presenta in questo modo E sarà diciamo La parte centrale dell'evento Quindi L'evento girerà appunto tutto intorno a sta navicella qua Che se non sbaglio Secondo i file di gioco Dovrebbe anche danneggiarsi Un altro segreto appunto che riguarda questo evento Un'altra cosa in anteprima Durante questo evento In teoria dovremmo completare Tipo delle mini sfide o qualcosa del genere E probabilmente rega non sono queste Perché all'interno dei file di gioco Sono state aggiunte delle domande Che appunto riguardano Star Wars Quindi sicuramente verranno Achieste appunto sabato E queste domande rega saranno queste Quindi qual è il tuo episodio preferito di Star Wars? Qual è il tuo personaggio preferito di Star Wars? E qual è il tuo colore della spada laser? Ultimo link rega Questi qui sono nuovi 4 banner appunto Ritrovati Nel file di gioco Che ci entreranno qualcosa con Star Wars Quindi banner a tema Star Wars Vi lascio vedere qua bene Fate pure uno scritto se volete Vi sposto Mi levo un attimo Ok mi levo E detto questo Direi che vi ho già svelato fin troppo Oggi raga Vi ho imparato un sacco appunto Per quanto riguarda L'evento La patch 11.30 Come diventerà la mappa Tutte le cose appunto Tutte le novità Sostanzialmente nel gioco Come faccio in ogni 4.9 News Mi raccomando Vi ricordo Un bel like E vi ricordo di condividerlo Con tutti i vostri amici Che sicuramente lo sapevano di queste news Come per esempio La nuova città Appunto appena giunta Il ritorno dei file di gioco Che io raga Non conoscevo assolutamente Penso nemmeno a voi Mi raccomando Come al solito Distruggete il tasto al nostro iscriviti Per non perdere tutti i prossimi video Raga e mi raccomando Volete diventare amici su Fortnite Supporta al creatore Con il check up Nel negozio oggetti Ah e taggatevi su Instagram Mi chiamo Kaptop0official Fatemi sapere Oltretutto Che cosa ne pensate Di questo nuovo evento Detto questo C'urba Noi ci rivediamo Di un prossimo video Ciao C'urba Ciao Ciao